Cosatto legno. Da più di 50 anni produce e vende infissi. In un'area complessiva di 9.000 metri quadri vengono costruite finestre in legno, legno alluminio, legno bronzo massello o lamellare, portoni, porte interne abbattente o scorrevoli e tanti altri articoli. L'azienda integra lavorazioni artigianali a moderne tecnologie operative. All'interno dello showroom vasta esposizione e personale qualificato alla vendita. Preventivi gratuiti. A Varmo, Udine, in via